Il coro polifonico Giuliano Berti vanta un repertorio di circa 300 composizioni, quasi tutte in latino, come il brano di questa sera. È una scelta, a volte potrebbe sembrare drastica, però nella musica soprattutto latina c'è la nostra storia, la nostra cultura e riprenderla per noi è anche un'idea di restare ancorati a una musica persistente, una musica eterna. Il testo latino ha la funzione di portarci alla nostra origine, noi sappiamo che all'inizio tutto era in latino e lo è stato fino a cinquantina di anni fa e conservarlo per noi è un'idea proprio di conservazione della specie, possiamo dire così. Il testo per noi è la matrice di ogni cosa, infatti la musica segue il testo, la musica cerca di dare l'emozione del testo e poi comunque facciamo sempre in modo che siano testi intellegibili, conosciuti dai salmi oppure gli introiti della messa, cose che comunque sono nella mente di tutti. Dunque parliamo proprio del brano che canterete questa sera, da dove è nata l'idea? Allora in pratica il brano è nato per il battesimo dei miei figli E' rimasto, essendo un brano che comunque ha una sorta di facilità perché il coro è abituato ad affrontare certe musiche e abbiamo scelto di portare proprio questo brano perché ricorre in una festa importante la celebrazione di ogni santi ed è un testo molto interessante e anche la musica fa la sua parte, è un testo allegro, gioioso, proprio di una solennità. Grazie 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 Grazie